Giorni insieme a me e dai tuoi ma soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà Buonasera, mi chiamo Haddan Mahfod sono dottorando in didattica dell'italiano LS presso l'Università di Algeria ringrazio l'Associazione DILA per l'opportunità e soprattutto signore Bruno Mancini vi auguro una buona partecipazione all'evento un caro saluto dall'Algeria c'è un patto c'è un patto crudele nel mio dono tu devi prendere la mia sedia la birra il siglo la penna per nascere ti giro incontro e non ti tocco c'è un patto scelerato nel tuo domani tu devi prendere il mio sogno il letto e l'uno le ombre per vivere ti guardo dentro e mi conosco c'è un patto assurdo nel tuo destino tu devi prendere il mio amore lo cerchi ti sfugge lo stringi per essere il naso di Trigiele ed Alessandro con il cuore di un poeta giorni insieme a me muovendo abissi di perché sere insieme a te scacciando fughe dai tuoi ma soli siamo noi in questa notte quando non ti